musica 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 se sei? mi ha detto se... chiamati come. la mia moglie come in casa ok, so mi avevo di uccelli se a 6 ore 2 ore e 2 ore e 10 ore ok, so mi avevo la uccelli i avevo i due sottotitoli non sono i che sottotitoli suonare i due sottotitoli mi avevo 4 ore nei sui se si mette un po' il carro le sono il mio amico non c'è mai freddo? non si vede so non si si chanuta ora vendersi ora mi fai 20 Kilo non ti fai 20 Kilo ora non dici 1 Kilo Non, 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 non. i choro ỏa non non ok ok il che la as www.mesmerism.info